Basterebbe mettere in funzione le telecamere installate con il progetto Gela Città Futura al fine di reprimere gli incendi e gli atti vandalici. Lo dice il capogruppo consigliare del megafono Sara Bonura che ha presentato una interrogazione alla giunta messinese. Nel 2005 il sindaco attuale presidente della regione Rosario Crocetta con il progetto Gela Città Futura aveva fatto installare in città numerosissime telecamere per contrastare il fenomeno della microcriminalità. Ad oggi il 90% delle telecamere risulta fuori uso. Pertanto ho fatto questa interrogazione per chiedere al sindaco di fare una manutenzione sia dei 5 server o addirittura di sostituire le telecamere. Dunque le telecamere potrebbero servire da deterrente? Certo potrebbero servire da deterrente anche perché si vedrebbe chi in qualche modo compie questi atti dannosi per la nostra città. Inoltre ogni anno erano stati previsti circa 40.000 euro per la sistemazione delle telecamere e per la manutenzione. Però ad oggi a quanto pare non risultano che siano stati utilizzati. Bonura ha chiesto al sindaco di convocare un vertice sul tema sicurezza alla presenza del prefetto e dei vertici provinciali e locali delle forze dell'ordine. Io ho chiesto un vertice che venga convocato un vertice al sindaco dove appunto debbano partecipare il prefetto, il questore, il comandante della polizia municipale e tutti i dirigenti delle forze dell'ordine nonché anche i professionisti utili per sviscerare appunto il problema in modo valido e profondo e apportare delle soluzioni a questo fenomeno che ormai non si riesce più a controllarlo. Ma al di là del funzionamento delle telecamere sarebbe però anche opportuno che la gente aggela quando si accorge di qualcosa e denunciasse? Eh certo, anche questo. Però è anche vero che nonostante vengano denunciati questi fatti purtroppo non si riesce a trovare chi li commette. Dunque l'auspicio, l'augurio è che le telecamere funzioni e che si possa vivere in massima tranquillità. Certo, l'auspicio sarebbe quello di poter dormire serenamente a casa nonostante le macchine vengano lasciate tranquillamente, parcheggiate sotto la propria abitazione.